Bollette da record nelle case dei cittadini europei e quindi anche delle famiglie italiane. L'agenzia di rating Standards & Purs rilancia una preoccupante indicazione. La bolletta energetica dell'intera Europa supererà i suoi livelli pre-pandemici di ben oltre i mille miliardi di euro. Prezzi elevatissimi che verranno ricadute sulle aziende del vecchio continente, che operano in questi settori particolarmente esposti, con una ricaduta inevitabile sui cittadini. Per questo motivo il Ministero della Transizione Ecologica ha i ridefinito una serie di indicazioni per far risparmiare in casa gli italiani, dalla riduzione delle ore di accensione delle lampadine a casa all'acquisto di elettrodomestici a basso consumo. Per Standards & Purs la chiusura del Nord Stream, il gasdotto che attravesse il Mar Baltico per trasportare direttamente il gas russo in Europa occidentale, passando per la Germania, sarà permanente. Una previsione inquietante che coinvolge tutti i paesi in attesa delle decisioni che verranno prese a Bruxelles venerdì prossimo. E si pone una riflessione anche sul mercato virtuale per lo scambio del gas naturale, con sede in Olanda. Attraverso questa piattaforma avviene la compravendita del gas tra i più grandi operatori del settore. I fornitori del mercato italiano acquistano gas naturale per poi rivenderlo ai loro clienti finali, come le aziende e gli utenti domestici. La volatilità di questo mercato non è sotto controllo e non riflette il prezzo reale del gas importato in Europa, sostiene oggi il presidente dell'Enel Starace, ma piuttosto riflette le preoccupazioni e le speculazioni.